Il destino di un piccolo arcipelago nel sud dell'Oceano Atlantico continua ad avvelenare i rapporti tra Buenos Aires e Londra. La presidente argentina Cristina Fernandez de Kirchner, con un'iniziativa a sorpresa, ha inviato una lettera al premier britannico David Cameron, chiedendo la restituzione delle isole che in spagnolo si chiamano Malvinas. Londra ha replicato a stretto giro di posta, respingendo con fermezza le richieste sulla sovranità di quelle che per loro sono le isole Falkland. Il futuro delle isole dovrà essere deciso da chi le abita. Ogni volta che è stata chiesta la loro opinione, hanno risposto di voler mantenere lo status attuale col Regno Unito. Stanno promuovendo un referendum per quest'anno e spero che la presidente dell'Argentina vorrà ascoltare questo referendum e riconoscerne i risultati. Gli abitanti delle isole, fintanto che sceglieranno di restare col Regno Unito, hanno il mio sostegno al 100%. Per l'Argentina la presenza britannica sulle isole è una sopravvivenza del regime coloniale che ha di fatto espulso gli abitanti indigeni e trasferito cittadini britannici. Per le Falkland Malvinas, negli anni Ottanta si combattea una guerra lampo, costata la vita a quasi mille persone, in gran parte militari argentini. Per l'Argentina Per l'Argentina Per l'Argentina Grazie.